Musica Musica Gianni Colacione per LibriTV, oggi 14 gennaio 2019, siamo al Crown Plaza Hotel di Roma e alla presentazione del libro Quale giustizia di Michele Leoni. Siamo in compagnia dell'autore, è un magistrato, Michele Leoni, presidente della Corte d'Assise di Bologna. Questo è un libro particolare in quanto già si parla nella sintesi, nella sinossi, si parla di norma astratta e poi sostanzialmente di applicazione di una pena che necessariamente e inesorabilmente è personale. Sì, non solo l'applicazione di una pena ma anche l'applicazione di una misura. Questo libro è nato dopo oltre 30 anni di esperienza e di lavoro. È stata una riflessione che è maturata col tempo. Molte volte si trova di fronte a situazioni in cui la giustizia è una cosa e l'applicazione della legge è un'altra. Nel senso che la persona che si deve giudicare, che è un proprio simile, non si conosce e non si sa che vita ha avuto, come ha prodato il crimine. E molte volte non si hanno neanche prove sufficienti per arrivare a una verità. Tutto questo si scontra anche col fatto che abbiamo un sistema carcerario che è deficitario quindi molte volte quando si mette una persona in carcere è anche forse difficile non farsi lambere da certi sensi di colpa perché si sa che questa persona andrà a finire in un universo che è lontano dalla rieducazione. Io posso dire a conclusione così molto sintetica che certe sicurezze, certe certezze che avevo quando ho iniziato questo lavoro a 30 anni adesso non ce l'ho più. Credo che sia fisiologico comunque maturare sulla base dell'esperienza l'insicurezza perché una certa saggezza vuol dire anche porsi dei dubbi, non avere certezze, meno certezze si hanno più forse si riflessivi. Beh sì, la conoscenza in qualche modo implica sempre il dubbio, in qualche modo è la ricerca di ulteriore conoscenza su certi campi. E volevo chiederle un pochino, questo è il lavoro del giudice, di chiunque deve giudicare che si trova spesso in solitudine, è anche umanamente abbastanza pesante? Sì, è molto pesante, soprattutto il giudice monocratico, io ho fatto il GIP per 10 anni e quindi mi trovavo da solo ad applicare una misura cautelare dopo aver interrogato una persona nel tempo di 24 ore, dovevo prendere una decisione senza sapere nulla di questa persona tranne quello che mi riferiva è il certificato penale che è molto poco. Quando si fa il collegio si entra e quindi si condivide, quindi si divide il peso della decisione e la responsabilità. Devo dire che molto vigliacamente a volte uno pensa, meno male che c'è l'appello, quindi un domani forse se ho fatto un errore questo verrà corretto. Però, insomma, penso che umanamente nel fare questo lavoro non si possa essere immuni da conflitti. Le voglio fare un'ultima domanda, mi sembra che proprio oggi sia una combinazione straordinaria, questa presentazione corrisponde con l'arrivo in Italia di Cesare Battisti. C'è stato un certo clamore mediatico, sappiamo un pochino la storia di tutti i nostri ascoltatori, più o meno la sanno di questo plurier gastolano, con condanne ormai appunto definitive. Ecco, come si sente di commentare un po' anche il metodo? Ma il metodo, non lo so, questa persona è riuscita a essere latitante per 37 anni, oltre a questo non credo che qui ci siano delle responsabilità particolari del sistema, è riuscita a fuggire, poi dopo gli è stata data protezione internazionale in più posti. quello che mi sento semplicemente di dire è che quando c'è di mezzo il crimine non esiste ideologia.